Allora, continuiamo quello che abbiamo visto, l'ultima lezione di meccanica, dove abbiamo visto l'analisi di verifica e abbiamo fatto la disamina di tutti gli stati di sollecitazione associati alle caratteristiche di sollecitazione. Quindi abbiamo visto lo step 4 a livello teorico. Oggi cosa facciamo? Andiamo a calcolare questi stati di sollecitazione all'interno della sezione S320 mm che è già stato oggetto dello studio dell'analisi di progettazione. Quindi oggi all'analisi di verifica andiamo a determinare lo stato di sollecitazione in questa sezione in relazione alle caratteristiche di sollecitazione che abbiamo definito e in base alla sezione nota, perché ricordatevi, in uno stato, in un'analisi di verifica è noto il materiale ma anche la sezione come valore, come diametro, va bene? Quindi il diametro di questa sezione è quello, partiamo da quello che abbiamo già calcolato chi era, quant'era nel nostro caso, quanto si era calcolato il diametro effettivo? era 53 sì, perché qui il totale era 60 questo non è effettivo, questo è il diametro minimo il diametro effettivo era 60 60 con la sede per la chiavetta 60, va bene? quindi noi però il calcolo dell'analisi di verifica stesso discorso prendiamo il diametro effettivo 60 però non lo facciamo su 60 la verifica, perché? perché se c'è una chiavetta a parte che la vuole è 53 ecco è 53, o 53 e mezzo, o a terra quant'è la chiavetta? 53 quant'è la chiavetta qui su un diametro è 60? mi sembra sia 7 e mezzo no, se l'ha detto 7 sicuro? 37 però, forse anche io 7 allora, 7 e quindi il diametro effettivo è 53 mm quindi ragioneremo su una sezione di 53 mm, va bene? quindi avremo qui la nostra chiavetta che genera una riduzione di diametro dell'albero e quindi avremo un diametro in rosso effettivo quindi avremo un diametro effettivo 53 mm, va bene? e su questo ora facciamo il calcolo degli stati di sollecitazione quindi di effettivo questo, il fi, è 53 mm a differenza di quello nominale di progetto che era il fi 60 mm, va bene? perché questo qua, la chiavetta, il famoso T1 era 7 mm, ok? ora si fa il calcolo degli stati di sollecitazione allora, partiamo cioè l'output l'output dello step 4 è determinare i sigma e i tau va bene? il sigma dovuto allo sforzo normale il sigma dovuto allo sforzo di taglio il sigma dovuto al momento flettente e il tau dovuto al momento torcente quindi partiamo dal primo lo sforzo normale uguale a zero quindi non genera stato di sollecitazione poi abbiamo il taglio il taglio genera nella sezione 4800 newton genera il tau la formula mi dà il tau è A che è 4 terzi per la sezione circolare per il taglio 4800 fratto l'area l'area la posso calcolare in millimetri quindi è pi greco per 53 alla seconda fratto 4 l'area del cerchio lo metto in calcolatrice e trovo il tau dovuto al taglio ma si sta facendo il ripasso di quello della scorsa volta? si, si sta facendo il calcolo l'altra volta suve c'è il calcolo suve c'è solo la teoria ah si è vero ora si applica le formule che si è fatto l'altra volta e si fa il calcolo esplicito dei valori degli stati di sollecitazione e questo fa 8,7 newton su millimetro quadrato perché ricordatevi i tau e sigma hanno un'unità di misura quella di una pressione una forza fratto una superficie poi ho la sollecitazione che usa un momento flettente che è uguale a 2,16 per 10 alla terza newton metro questa la posso portare in newton millimetri 2,16 per 10 alla sesta newton millimetro questa genera il sigma trovo direttamente il sigma massimo che è pari a il momento flettente fratto il w ricordatevi che questo è quello massimo se no posso calcolare quello la retta generica che è per y mezzi e qui ci metto lì rispetto all'asse che nel caso nostro è z è un momento flettente rispetto all'asse z quindi qui ho 2,16 per 10 alla sesta fratto i z ricordatevi è pi greco di alla quarta fratto 64 e questo vi vale a che devo fare scrivo le formule l'altra volta no si può leggere un po' più piano prof leggere? eh di targo un po' più piano dovrebbe essere questo è sigma eh? è sigma cioè tipo sigma con quella sancellata c'è scritto è sigma vero è sigma massimo trovo l'antamino e come è la formula? è con la y è con la y y mezzi o mezzi no scusate ho sbagliato y mezzi y normale è d mezzi è con la y ma la formula quale sarebbe? mf alla seconda? no mf e y il momento flettente fratto il momento flettente lungo l'asse z fratto il momento di inerzia lungo l'asse z il momento di inerzia lungo l'asse z con la sezione circolare riportavo qui sotto e viene 3,87 3,87 per 10 alla quinta millimetri alla quarta millimetri alla quarta perché è di qua tanto poi si trattifica da su quindi qui cosa viene poi ora per trovare il sigma il sigma l'andamento del sigma è una retta che è il momento flettente che è 2,16 per 10 alla quarta alla sesta scusate fratto 64 no scusate fratto 3,87 per 10 alla quinta perché ho trovato il sigma io non capito per controllare il sigma per il sigma è il momento flettente perché il sigma c'è un momento flettente perché il momento flettente c'è un sigma no ma la y è il coefficiente? no la y è la distanza da cui mi trovo ora ve la rappresento è la distanza allora io rappresento l'andamento di sigma sulla sezione in dove qui c'è il valore di sigma qui c'è la distanza della sezione dal baricentro da G questa è la sezione la distanza del punto G più che mal lontano più che forte di sigma e questo viene 5,58 y e questo è massimo quassù questo è l'andamento di una letta e va a cucino questa è l'equazione della retta che va così e avrò il sigma massimo chiaramente positivo qui e negativo qui perché qui l'ordinata è negativa e quindi quindi sigma massimo che è questo valore in basso che è nell'estremo della sezione è uguale a 5,58 per 53 mezzi ma c'è per il raggio del diametro eh c'è per il raggio si e viene e viene 148 ma ma perché viene sigma uguale y non uguale 5,58 y perché la sigma è variabile a seconda la distanza che mi trovo dalla centra della sezione si disse l'altra volta se c'è un momento flettente la sezione si deforma così quindi la massima selezionazione ce l'ho all'intradossa e all'estradossa agli estremi della sezione che vuol dire prof eh all'interno all'esterno all'interno e all'esterno chiamatela così eh no ma non lo vedo vedo un po' mi riguarda nulla l'altra volta io ando fa una roba e non la riguardate ragazzi se no un casino eh prossima domanda ma in casa e cosa è un tempo e dove c'è y e si uno mi ha viso palla non capisco niente in quel graficino in basso a destra in quel graficino in basso a destra cosa vuol dire cosa cosa rappresenta uno mi ha viso cioè a te ha chiesto prof i grafici in basso a destra cosa rappresenta quello lì c'è y con sigma mi sento ora prof state bene eh mi sento ora si passando in basso a destra il graficino in basso a destra il graficino in basso a destra e cosa vuol dire cosa rappresenta questo il diagramma di estra retta qui y uguale a 5,58 y l'andamento della sollecitazione in funzione della distanza dal centro della sezione le sezioni più sollecitate sono quelle sull'estremo che è questo qua il punto A e il punto B il punto A e il punto B questo è il punto A e questo è il punto B cioè il punto A è soggetto a trazione a trazione e il punto B a trazione è l'opposto ora va bene questo è A e questo è B che è all'incontrario va bene lo sapete si rappresenta all'incontrario è soggetto a compressione eh a me si fa soggetto a compressione B a trazione A a compressione B a che siamo? questi valori segnatevi da una parte perché devo cancellarli forse forse ce la può a tenere lì? vediamo si forse ce la può vediamo l'ultimo ora che è il momento torcente il momento torcente genera tau la formula che mi dai tau è tau uguale a il momento torcente che è lungo l'asse x fratto idx per sempre y che è lo stesso y di prima anche questa è l'equazione di una retta con una differenza che x a differenza di iz è pi greo di 4 32 e quindi viene il doppio di questo invece 3,87 viene 7,74 questo fa sì che il tau venga un'equazione che è uguale a 966 per 10 alla terza alla sesta se lo fò in millimetri fratto 7,74 per 10 alla quinta di y e questo viene e questo viene per 10 elevato alla sesta alla terza alla terza perché lo fò in un millimetri non danni su un metri vedi vieni su un metri lo porto un millimetri a meno che tutto un millimetri diviso 7,7,74 per 10 elevato alla quinta e viene 1,25 y posso trovare il tau massimo mettendo la y sempre 53 mezzi 1,25 per 53 mezzi no ma scusi prof ma lì viene 966 per 10 alla sesta fratto 7,74 per 10 alla quinta che sarebbe lì di x sì ma allora perché ha messo 10 alla terza qui? o non era la sesta? no perché questo è già in newton millimetri 9,66 qui invece era 2,16 avviso? qui è già 9,66 su millimetri non c'è 10 quindi lo motiva 10 alla terza ah sì sì ho capito e qui viene 32,6 newton su millimetro quadro quindi riapitolando la y prof è 53 fratto 2 o 13 53 fratto 2 sarebbe diametro mezzi raggio sì quello di prima ora che si fa ora che si fa si prende si scrive da una parte tutti i valori che io mi sono calcolato va bene quindi 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 il 32,6 il 148 il 8,7 e 0 dello sforzo normale e ricavo i sigma globali va bene quindi sigma totale uguale al sigma dello sforzo normale più il sigma di momento flettente chiaramente lavora la sezione alla massima sollecitazione prendo valori massimi quindi è 0 più il valore massimo che se si rompe la sezione si rompe nel punto più esterno mentre il taglio come sappiamo è massimo nella mezzeria che cambia di fatto punti no posso fare in due modi ho approssimato così e qui forse sigma più che è il 48 se no non mi torna allora posso fare un calcolo approssimato il calcolo approssimato uguale è di prendere tutti i sigma e sommare i valori massimi quindi 0 più 148 e viene 148 newton su millimetro quadro ok poi prendo il quindi si deve il sigma totale poi prendi tau totale che uguale a 8,7 più il tau del momento torcente era 32,6 e questo fa 41,3 newton su millimetro quadro e prendere questi come valori di output per lo step successivo va bene questo è un modo l'altro modo un po' più raffinato però richiede la conoscenza specifica di Iuraschi è di dire bene io divido la sezione nei punti critici che sono A B C e D riporto una tabella i quattro punti ok e dico bene io qui c'ho A B C e D poi c'ho lo sforzo sigma dovuto allo sforzo normale poi c'ho lo sforzo tau dovuto al taglio poi c'ho lo sforzo sigma dovuto al momento flettante poi c'ho lo sforzo tau dovuto al momento esorcente e ciò che in A e B ho il sigma massimo va bene il sforzo normale è tutto zero il taglio qui dovrei fare raschi conoscere che l'andamento è questo quindi qui ho negli estremi in A e B ho il valore minimo in mezzo ho il valore massimo qui dovrei usare la formula vera che mi dice che T è uguale al taglio SB fratto la corda per l'area dovrei conoscere tutti i termini ora ne sto qui a farvi si riava l'SB che è praticamente l'SB di baricentro è l'area di questo semicertio moltipliata per la distanza dal centro che è questo tra i baricentro e questa è R quarti quindi sarebbe giusto per dirvelo questo è trovato nel punto C e D l'SB nel punto C e D è l'area di questo semicertio quindi è pi greco di quadrati 4 fratto 2 perché è la metà per il raggio alla quarta per il raggio mezzi scusate per il diametro quarti per il diametro quarti per di quarti questo è SB la corda B è i D mezzi l'area la conoscete il T lo conoscete e viene fuori il cattolo va bene eh S non mi ha preso questa è la seconda S S S S Sarebbe momento statico e questo è una caratteristica un po' difficile a calcolare ma infatti questa è una cosa io ora ve lo può giusto qui ma non lo voglio sapere perché lo trovavo è il momento statico sarebbe l'area moltiplicata per la distanza quindi questo non è altra questo è SB in questo punto chiaramente le moltiplia dappertutto e trova i valori i valori che vengono fuori va bene vuoi dimostrare la forma di Uraschi sia giusta perché vuoi memoria ma anch'io ho memoria si si è giusta vuoi memoria è giusta proprio mi sono un attimo a livello di menzionare una cosa perché SB dovrebbe essere una grandezza alla terza no mi sa che non c'è là ho sbagliato questa qui non c'è non mi sono a livello dimensionale perché deve avere in Newton su millimetro quadro SB è alla terza B è alla prima viene alla seconda là va bene no non è giusto ragazzi ho sbagliato l'area l'incontrario è T per B fratto SB mi sa perché sennò mi viene Newton su millimetro quadro no no prof è T per S fratto J per B ah fa ragione T per SB fratto giusto momento di inerzia giusto che va alla quarta per B ora mi suona questa è la quarta questa è la prima quinta fratto terza viene alla seconda vedete come si fa a riordarvi le memosie uno a memoria non si ricorda però intorno a dimensionalmente capito ok e questo è il momento di inerzia rispetto all'asse dove c'è il taglio quindi in questo asovì è lì Y uno sostituisce tutto e trova e trova che ha un andamento di tipo quadratio è la parabola va bene trova il valore in questo punto e in questo punto e qui è diverso va bene quindi mi verrebbe valori diversi tutti diversi analogamente lo fa in momento flettente avete il massimo in A e B quello avete calcolato c'è in 48 qui 0 e poi avete il momento torcente anche lì che è il massimo che è uguale dappertutto perché sull'estremi è tutto uguale ed è 32,6 e questa tabellina è l'output per lo step 5 chiaro un po' più precisa perché per l'output per lo step 5 andiamo a trovare si suppone che se c'è un punto che raggiunge la sollecitazione massima si rompe anche un è detto perché magari si rompe in questo punto ma un è detto si rompe dappertutto perché un punto quando è qui raggiunge il limite di rottura non è detto che si rompa ma ridistribui cioè lui smette di lavorare fa lavorare più l'acomo accanto e quindi assorbe parte della sua energia quindi si ridistribuisce la tensione non è che se si rompe un punto si rompe tutto nasce quello che si chiama cegnere plastiche che studierete a costruzione di macchine due se studierete ma se no a liti ci fermiamo a liti ci accontentiamo del concetto di questo vi quindi sommare brutalmente le sigma massime e le tau massime e uscire con due valori che sono per noi 41,3 e 148 con questi passiamo allo step 5 chiaro? grazie comunque per avermi detto la forma di Uraschi vuol dire che a me non l'avete guardata non è poco a una scuola superiore la migliorosità ve l'ho messa diceva che voi si guarda una forma ma non so trovare la forma dentro tutta una serie di esamine di Uraschi non è banale proprio infatti ci arriva questa tramite delle varie formule la semplifica una grande forma di Uraschi è una degli studi più complessi è una delle taglia all'università una delle cose su cui soprattutto i professori di scienze e le istruzioni ci lavorano parecchio per noi meccanici taglio insomma non è che ci si trova molte volte a che fare l'uomo orecchio si lavora in un momento flettente in un momento sorcente per quello abbiamo fatto un'analisi di progettazione però per capire gli stati di sollecitazione e certi meccanismi di rottura neoponenti meccanici è importante anche uno scelitaglio perché chiaramente genera degli scorrimenti a livello di materiale e quindi a virgo come mai sembra lo scorrimento quindi la deformazione sia avvenuta in certi punti invece in certi altri per capire come è distribuita la tensione all'interno della sezione in quello magari può servire allora a questo punto arriviamo allo step 5 ma proprio nella formula di Yurash parla più che altro di un corpo di tipo asse parla corpo tipo non so tipo asse aveva detto sì perché chiaramente si parla di un corpo l'approssimazione è quella della trave Samborano che per cui l'effetto delle l'effetto delle ah ok l'ho visto l'effetto delle sezioni piccole è indifferente rispetto all'effetto delle sezioni lunghe cioè che le due dimensioni nella sezione sono di un ordine almeno di grandezza rispetto alla lunghezza della trave corpo snello se invece la trave è tozza c'è un effetto di contrazione all'interno della sezione e contrastano la deformazione chiaro? ok però diciamo solitamente si fa sempre l'ipotesi di San Venanno in cui ora io non ve l'ho detto ma perché si entra poi in un campo un po' in cui gli effetti diciamo di contrazione all'interno della sezione sono minimi rispetto all'effetto e non si basa sulla lunghezza tant'è per noi si muove in una sezione in questa maniera qui fregandocene di quelle sono gli effetti di deformazione all'interno della sezione ok allora lo step 5 lo step 5 cosa dice lo step 5 ci dice ci permette di alcolare un sigma equivalente che cos'è il sigma equivalente è uno stato di sollecitazione equivalente alla combinazione degli stati di sollecitazione abbiamo visto cioè praticamente noi cosa abbiamo visto abbiamo visto quattro stati di sollecitazione una trava in modo lì è come se fosse sollecitata un'unica sollecitazione equivalente applicata sul provino di trazione va bene questo vuol dire perché si lavora sul concetto dell'energia di deformazione e questo qui ci sono varie formule cioè 3 scopo un mises noi manuali lavorano un po' mises che vi dice il sigma equivalente è sigma alla seconda totale che avete riavato più il tau totale alla seconda per 3 quindi noi sostituiamo valori precedentemente alcolati in cui sigma era 148 vero? più 3 per 41,3 alla seconda che è retta autosale e qui ci viene un sigma equivalente e viene 148 alla seconda più 41,3 alla seconda per 3 e qui viene 164 Newton su millimetro quadro e qui sarebbe il sigma equivalente a questo punto è prezzo servito anche lo step 6 in cui si confronta questo valore equivalente con il valore ammissibile e se il sigma equivalente in questo caso 564 supera il sigma ammissibile che era mi sembra 93,1 la trave è non verificata e questa è la conclusione è scritta proprio se il sigma equivalente è 164 si è calcolato al step 5 va bene come il sigma equivalente che è equivalente allo stato di trazione del provino attraverso la legge di che dice che questo genera a livello micro la stessa energia di rottura che quella che abbiamo nel provino di trazione quindi siamo riportati all'esperimento con cui abbiamo il sigma di rottura con cui attraverso lo step 3 l'abbiamo ridotta il sigma ammissibile che è quello che effettivamente sopporta a livello atomico il nostro materiale in esercizio dovuto al fenomeno alla fatica dovuto al fenomeno alla produzione dovuto al problema all'effetto magari di temperatura lavorazione dimensioni dei provini abbiamo appunto il sigma ammissibile lo confrontiamo il nostro sigma equivalente siccome il sigma equivalente supera il sigma ammissibile vuol dire che il sistema non resiste non è verificato a questo punto tu hai tre ipotesi o tu modifi il materiale tu vai a cercarne uno che abbia un sigma ammissibile 164 magari tu vai incontro ad un acciaio legato che ha caratteristiche di meccaniche molto più elevate tipo 15006 per cui comunque ti può vedere le norme no 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 perché allevavo ah perché andavo a cercare il sigma di rottura di materiali se tu vai a prendere un acciaio legato tipo un cromo nickel ha un sigma di rottura di 15006 quindi se anche tu lo dividi o mi sei fatto l'altra volta per 6 1500 diviso 6 ti viene un sigma ammissibile di 250 e quindi potrebbe aumentare il diametro no? o sennò tu aumenti il diametro però tu devi cominciare da capo però aumenta il costo no? tu devi cominciare da capo e inerzi anche questo step 4 5 e 6 che abbiamo fatto come con una verifica a parte potrebbe essere messo in coda allo step 6 dell'analisi di verifica cioè se l'altra volta abbiamo fatto un'analisi di verifica abbiamo tirato fuori questo diametro 53 trascurando certi effetti in questa maniera li riconsideriamo perché consideriamo anche lo sforzo normale dettaglio che l'altra volta nell'analisi di progettazione si era trascurato e verifiare effettivamente considerando tutti gli effetti se il sistema resiste o non resiste però ha detto ci sono due opzioni uno cercare un altro materiale con un sigma di rottura più alto o se no qual era l'altra? aumentare il diametro aumentare il diametro ok o ridurre le cariche ma vuol dire cambiamo soli e abbiamo tutto e quindi non soddisfare le richieste del cliente o della macchina che volevo costruire oppure assumermi il rischio perché quindi il sigma ammissibile non si è messo 4 al denominatore di assumermi cioè per esempio non si è messo quando si è trovato il sigma ammissibile non si è messo 1,5 e 4 no? l'1,5 era dovuto all'incertezza di materiale e tutto oppure andare a cercare un materiale certificato cioè di dire io voglio un materiale che sicuramente ha un sigma di rottura 800 quindi prendere un materiale che costa di più certificato sempre non considerando gli effetti di messa in esercizio 800 di su 4 fa 200 su tutti i ragionamenti uno fa no? e alla 200 si rientri sul sicuro sul sicuro o rischiare diciamo no perlomeno aver chiaro cosa comporta una scelta progettuale quando una chiara una scelta progettuale è chiaro che anche le conseguenze deriveranno da quella scelta progettuale sono chiare cioè quando uno ha capito qual è il concetto che porta una conclusione poi lo gestisce in meglio di fronte a una conclusione in questa maniera dice cambio materiale vado ad un materiale più costoso ma più sicuro vado all'interno di un materiale meno costoso ma certificato tipo un C40 in cui mi garantisca un 800 minimo che ha un costo anche lui oppure aumentare il diametro ha un impatto sul peso sull'ingombro su tutto il resto cioè sono tutte scelte progettuali e chiaramente il progettista va a fare voi cosa dovete fare dovete capire cosa ci sta dietro le stesse progettuali e tirare le conclusioni cioè anche all'esame di maturità quando voi farete un'analisi di progettazione magari fermate allo step 6 può dire sì ho trascurato lo sforzo normale e il taglio dovrei a questo punto con il diametro effettivo valutare l'effettiva resistenza di più materiale lo dite basta non lo fate ma già vedi chiaro un testa cosa andrebbe fatto chiaro sono tutte da ora in poi nasce un mondo che è fatto da analisi tecniche ma anche ragionamenti scientifici che crea l'uomo no? cioè saper diciamo argomentare all'interno di un argomento quelli sono i concetti fisici che sono i sigma i tau che sui non si discute iuraschi infatti anche iuraschi vedete arriva alla conclusione attraverso tutta una serie di passaggi matematici quindi alla fine la forma di iuraschi è legge però poi da lì a considerare io meccanico iuraschi ha come legge quindi determinare la sezione a pezzettini oppure dire sì accetti il valore meglio perché se mi si rompe in un punto non è che mi si parte il materiale ma ridistribuiti la tensione quindi considerare il tau meglio non è un errore poi così macroscopio e lavorare il tau meglio e fare lo stesso ragionamento dando un peso alle cose chiaro? oppure no sono un sistema dove la passando un attimo un bagno no voglia tutto chiaro? chiudo la registrazione